e non riesco a caricare questo video quindi lo carico già adesso e bella ragazzi ci vediamo al prossimo video vi ricordo di lasciare un like e un commento e anche due o tre commenti ragazzi tanto per farvi un po' di iscritti bella ragazzi ci vediamo al prossimo speciale bella